Privacy Vietati dati sessuali, razza e religione ad immobiliari Foggia Vietato alle società immobiliari raccogliere dati su razza, religione o vita sessuale delle persone che le contattano per la compravendita o locazione di una casa. È il principio del garante che ha vietato ad un'agenzia immobiliare che raccoglieva senza consenso questi dati, perché alcuni proprietari non avrebbero gradito affittare a extracomunitari, omosessuali o musulmani, in quanto trattati in modo illecito al di fuori dei casi autorizzati. Lecita la raccolta di informazioni relative ad handicap o patologie invalidanti, per escludere dalle trattative immobili con barriere architettoniche. Il garante ha inoltre prescritto alla società di riformulare l'informativa sul sito internet.